L'evento collaterale di quest'anno del Salento Finibus Terra è una interessantissima mostra fotografica. Ho 70 foto che parlano di cinema, perché foto scattate sui set dei più importanti film. Ebbè, a farle queste foto ovviamente ci sono stati dei fotografi, per così dire, di scena. Sono loro responsabili dell'associazione BIC Set, sono Romolo Eucalitto e Giovanni Caramanico, che qui rappresentano appunto questa associazione e soprattutto rappresentano questo fantastico mondo. Ecco, a me incuriosisce, ma come nasce un fotografo di set? Cioè si comincia a fare altro e poi ci si indirizza verso il cinema? Romolo. Beh, ognuno ha un suo percorso, per cui non è che siano tutti uguali i percorsi dei fotografi. Per quanto mi riguarda, l'ho sempre voluto questo lavoro. Fin da ragazzino, infatti io sono... Stringi, stringi. Ah, devo stringere? Sì. Allora, facevo il ragioniere e poi ho detto, il ragioniere non è permesso, andato a fare il fotografo di scena facendo le pulizie al pavimento di un laboratorio fotografico. A tutto qui, insomma. Sì, tutto. Mentre? Mentre io ho iniziato a rimanere diversa, come fotoreporter all'inizio. Poi ho conosciuto Pasquale Squitieri a Paese Sera, la troviamo insieme e poi a un certo momento Pasquale ha deciso di fare il suo primo film. Io l'ho seguito e da lì, purtroppo, la malattia del cinema mi ha preso e mi ha portato avanti fino a 40 anni di cinema. Comunque un bel mestiere, indubbiamente. Qual è il rapporto però che c'è tra voi e registi e attori? Un po' di odio e amore o sbaglio? Come vi vedono loro, insomma? Noi ci vedono come dei rompi perché disturbiamo. Però poi alla fine ci danno santi baci perché si ritrovano con un lavoro, un discorso di memoria praticamente. Noi siamo quelli che fotografano la memoria del cinema italiano che purtroppo oggi non c'è più. Anzi, possiamo dire che la foto di scena è forse la prima pubblicità, la prima promozione di un film, vero? Sì, infatti prima si usavano le fotografie di scena per vendere il film addirittura, quindi non c'erano i promo come oggi, i televisivi, eccetera. Quindi si faceva tutta una serie di fotografie 30x40 e il produttore con queste girava e vendeva il film all'estero. Allora, me lo raccontate per un aneddoto simpatico. vi sarà capitato in tutti questi anni di incocciare in qualche regista, in qualche attore che alla fine, insomma, sentiamo. Allora, uno pulito, diciamo, nel senso di non... Porco, perché... No, 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 facciamo un e uno, via. Allora, il primo film di James Cameron, il regista che poi ha fatto Titanic, era Piranha. Ci trovavamo in Giamaica e il signor Cameron ci voleva far parcheggiare... Io mi occupavo anche della parte subacquea, quindi dovevamo parcheggiare una barca dove diceva lui, facevamo il giro, lui diceva fermi là, allora noi dicevamo ok, però la barca andava avanti perché la barca non c'era il freno a mano, la barca, non yacht. E allora facciamo, sì, c'è ragione, e allora rifacciamo il giro. Per farla breve, dalle sette di mattina alle undici stavamo ancora a fare questi giri, a un certo momento il mio partner e collega si infila le pinne e dice, io faccio dove vai? Vada a casa. Si butta e se ne va. E mi lascia a me solo sulla barca con... Io comincio a urlare via radio al regista e dico, guarda se non ci dai il tempo di buttare tre ancora e non la fermeremo mai sta barca. Insomma per farla brevissima, la scena poi dopo siamo riusciti a farla e la sera il produttore ha licenziato. Ha licenziato James Cameron che poi ha fatto il film con Schwarzenegger e ha guadagnato il fior dei miliardi, infatti il produttore ancora mi rimprovera oggi. Qui non siamo sul set di un film ma sul campo d'azione di un film festival. Avete provato a fotografare il nostro direttore artistico? Si, un paio di fotografie ci ho provato a farle stasera, ma vediamo che succede. Si, ci ho provato però c'ha troppa pappacoggia che non si può... Contenti ricevere questo premio, si. Molto, si, è il nostro primo premio, speriamo che non ci licenziano per questo. Buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti.